Passeggiare in bicicletta una domenica pomeriggio insieme al Rotary Club di Vittoria è accaduto ieri sul lungomare di Scoglietti grazie ad un'iniziativa del Rotary che ha organizzato una passeggiata in mici lungo tutto il nostro litorale. Iniziativa condivisa del rinostrano del WWF Bleo Iparino, dall'architetto Salvatore Garopolo dell'Ipari Runners e dell'Ipari Bike, dal professore Lino Di Rosa del Circolo Velico Anemos e del professor Ottonino Siciliano dell'Uispe Vittoria. Alla manifestazione sono intervenuti circa un centinaio di partecipanti che hanno dato vita ad una simpatica passeggiata sul lungomare che da Baia d'Orica porta al Museo Archeologico di Camarina. L'intero gruppo ciclistico ha per alcuni istanti cambiato le sembianze del lungomare che da strada destinata al caotico traffico di autovetture si è trasformate in una singolare e sostenibile via ciclabile. Nella stupenda coreografia del Museo di Camarina, a quale punto d'arrivo, i partecipanti, oltre al rinfresco offerto dal Rotary, si sono soffermati sulle necessità non rinviabile di poter avere a Scoglietti una qualità delle vite migliore data da una mobilità sostenibile che dia spazio alle piste ciclabili. È necessario, ha dichiarato Pippo Re, presidente del Rotary Club di Vittoria, che l'amministrazione comunale programmi tutti gli interventi utili per avviare un piano bici a Scoglietti in uno dei lungomare più belli d'Italia. Grazie a tutti.